Hey l'amici, come state? Domanda, quante ore di visualizzazione avete al giorno su YouTube? No, perché prima di registrare questo video ho fatto un calcolo e io ne ho tre al giorno, per cui se mi battete o anche se non mi battete scrivete qual è il vostro numero qua sotto nei commenti. In questi anni ho seguito tantissimi canali, anche molto diversi tra loro, poi ho imparato l'inglese e quindi ho scoperto anche l'universo dei canali in inglese, ho cambiato gusti, mi sono avvicinato alla finanza, che oggi è anche il mio lavoro e l'oggetto di questo canale. Ma se c'è un contenuto in tutto ciò che non mi stanco mai di vedere, sono i video di gente che seguo e che apprezzo che mi racconta quali canali seguo, perché è l'occasione per me di trovare spunti nuovi, conoscere canali che prima non conoscevo o anche semplicemente essere contento del fatto che io e quello YouTuber condividiamo una passione o un canale. Quindi oggi voglio provare a fare lo stesso, vi racconto quali sono i miei canali YouTube preferiti al momento e che seguo più volentieri. Quindi iniziamo, però prima di partire con la lista, anzi con le liste, infatti sono due, due piccole note. Uno, questi sono i canali che seguo di più al momento, quindi è assolutamente possibile che tra un anno la lista sarà molto diversa. Due, attualmente io ho due canali YouTube con due feed diversi. Mesi fa ho deciso di dividerli per una questione di pulizia, in modo tale da avere sul canale principale, quello da cui sto effettivamente pubblicando questo video, un feed dedicato quasi esclusivamente alle cose di finanza, business e in generale tutto quello che ruota un po' attorno a quel mondo. Al massimo potremmo infilarci quello che potremmo definire infotainment, quindi comunque una parte di video informativa o formativa con però una piccola parte di intrattenimento. In questo modo quando apro l'app di YouTube in home mi trovo solamente roba utile, o meglio utile secondo il mio criterio, che al momento è quello di trovare roba di questo settore. L'altro canale invece è più miscellaneo, c'è dentro un po' di tutto. C'è molto intrattenimento, c'è anche intrattenimento puro, quindi video veramente per staccare la testa, ma ci sono anche canali magari che fanno informazione molto utili, però la fanno su degli ambiti o dei settori che non sono il mio interesse principale, per cui preferisco lasciarli sul canale secondario. Oggi quindi vi racconto un po' le mie iscrizioni, per cui in questo primo video vi racconto il primo blocco di canali, quello dedicato alla finanza, al business, tutte cose che ruotano attorno al mio interesse principale, mentre in un secondo video che farò tra poco usciranno invece tutti i canali del secondo blocco, quelli più di intrattenimento. Iniziamo e andiamo in ordine alfabetico, così ci togliamo qualsiasi tipo di equivoco sull'ordine. Ah ma hai messo prima quello, prima l'altro? No no, alfabetico. E il primo della lista è Alessandro De Concini, Ale che ormai lo conosco, ci siamo sentiti e visti più volte, e devo dire che prima ancora di conoscerlo personalmente sono stato un assiduo frequentatore del suo canale, in particolare per tutti i temi che riguardano produttività e gestione del tempo, e devo dire che su questo mi ha anche aiutato parecchio. Lui, per chi non lo conoscesse, si occupa di metodo di studio, questo è veramente il suo punto forte, ma come appunto vi ho detto spazia anche su altri temi, un pochino più laterali, che però possono essere comunque orientati all'argomento ottimizzazione della propria vita. Se non ricordo male, infatti, è proprio grazie al suo canale che ho conosciuto il metodo PARA, che sto cercando di implementare per il mio archivio digitale, e soprattutto il metodo GTD, getting things done, su cui appunto trovate un video. Andiamo avanti con Andrea Bottoni, Botto per gli amici, e anche in questo caso è un canale che non si focalizza su una cosa sola, infatti Botto è un marketer, è un copywriter come occupazione principale, però sul suo canale racconta anche un po' di cose della sua vita, e sono i video in cui trovo più ispirazione, soprattutto quando magari sono un pochino giù e vedere video di gente come lui, che si dà da fare, che si muove per andare verso una direzione, mi aiutano molto, mi risollevano molto. Oltre al fatto che i contenuti sul copywriting, a mio avviso, sono qualitativamente molto validi, soprattutto in un ambito italiano che, su tutto questo punto di vista, è veramente scarno. Poi con Andrea parallelamente ci divertiamo a fare chiacchierate su intelligenza artificiale, quello che succederà in futuro, insomma, facciamo un po' di chiacchiere da bar. Però le stesse chiacchiere da bar interessanti, a volte, anzi forse un pochino più interessanti, le trovate anche sul suo canale, quindi godetevelo. E andiamo avanti con Andrea Muzzi. Andrea, per chi non lo conoscesse, è un memory athlete, un atleta di memoria, quindi un campione di discipline mnemoniche, e sul suo canale racconta, ovviamente, la sua avventura in questo mondo, ma più in generale tutta una serie di video per quanto riguarda l'efficientamento della propria mente. Per cui, anche in questo caso, video di produttività, video su come migliorare la propria routine, come migliorare la propria disciplina, tutte cose molto interessanti che da qualche mese sto cercando di implementare piano piano. La cosa poi che mi piace di Andrea, come molti altri sulla lista, è che è molto scientifico, quindi riesce a scindere bene quando sta dicendo delle opinioni e quando sta dicendo dei fatti, cosa che andrebbe, secondo me, sempre fatta. Purtroppo, però, non tutti lo fanno. E andiamo avanti con uno dei miei idoli, praticamente, Asvat Damodaran, che è, sostanzialmente, uno dei più grandi professori di valutazione aziendale al mondo. Probabilmente qua dietro ci sono anche i suoi libri, sì, esatto. E quindi, insomma, è un professore con cui ho studiato anche personalmente, che apprezzo moltissimo per la sua solidità nel spiegare i contenuti, nello spiegare i concetti. È veramente molto rigido, ma non in termini negativi, come spesso si dice di una persona. Proprio solido. Quindi, sul suo canale lo notate, e, cosa assolutamente fondamentale, pubblica un sacco di roba gratis. Cioè, veramente, i suoi corsi, quelli che tiene all'università, vengono pubblicati praticamente in tempo reale, gratuitamente su YouTube. Quindi, boh, raga, cioè, io non so cosa dire. Nel senso, se non seguite questo canale, siete pazzi. E andiamo avanti con Be Smart, che è un canale di divulgazione scientifica molto pop, molto easy, nulla di particolarmente complicato, ed è creato da questo Joe Hanson, che è molto molto simpatico, tra le varie cose. Sul suo canale trovate veramente la qualunque, è molto vario per quanto riguarda i temi. C'è un video su come si potrebbe pulire lo spazio da tutta una serie di rifiuti che ormai abbiamo lanciato, purtroppo, vedi satelliti che in questo momento non funzionano più, e cose del genere. I video sono molto leggeri, durano una decina di minuti, però quella piccola cosa riescono comunque a veicolartela, quindi per quello non mi sono sentito di metterlo nel secondo gruppo, perché comunque il valore per quanto mi riguarda è più informativo che di intrattenimento. Poi ci sono anche video molto, molto base, tipo dovremmo parlare con gli alieni o cose del genere, però, vabbè, sono eccezioni. Di base i video sono abbastanza interessanti, non li guardo tutti, lo ammetto. E andiamo avanti con quello che secondo me è il canale più divertente per quanto riguarda la finanza. Divertente, ma non per questo scemo e banale. Sto parlando di Benjamin. Canale in inglese che parla di vari temi, ma lo fa con uno stile veramente simpatico, veramente irriverente anche, molti meme, molte spiegazioni tipo con gli stickman, con gli omini, cose che io veramente amo, ci vado matto per questa roba, e trovate veramente di tutto. I video quindi hanno un taglio che sembra voler strizzare più l'occhio all'intrattenimento e alla parte comica, in realtà però, guardando bene, ci si trova anche molto valore all'interno, perché magari all'interno della parentesi comica c'è comunque lo spazio per fare un po' di spiegazione su un concetto. Comunque, veramente, andateveli a vedere questi canali, perché in questi casi vale più vedersi un video che non star qua a sentire me che ne parlo. E andiamo avanti e stavolta parliamo di tasse, purtroppo. O meglio, per fortuna, sto parlando di Carlo Alberto Micheli, che è un commercialista, avvocato, ed è sostanzialmente la persona che mi ha introdotto al mondo dell'ottimizzazione fiscale. Quindi, in particolare, se avete una partita IVA ordinaria, se avete un SRL, secondo me questo è assolutamente un canale da consultare, perché purtroppo, quando si parla di fisco in Italia, ci sono tendenzialmente due filosofie di pensiero, e ve lo dico per esperienza. Ci sono i commercialisti classici, quelli che ti dicono no, bisogna fare così assolutamente, non puoi fare niente di strano, semplicemente perché non si sanno muovere in questo ambiente, non sanno che si possono fare determinate cose, rimanendo assolutamente nel legale e nella trasparenza. E poi ci sono, dall'altra parte, i commercialisti furbacchioni, che ti vogliono far fare cose assolutamente illegali, facendotele passare come eh no, ma è borderline. Ebbene, l'ottimizzazione fiscale non è niente di tutto ciò, e Carlo la spiega benissimo all'interno dei suoi video. In questo momento, tra l'altro, sta facendo anche una serie molto interessante sui paesi con fiscalità un pochino agevolata, dove però analizza non solo l'aspetto delle tasse, perché non è l'unica cosa, ma anche altri aspetti secondari. Quindi, in generale, dategli un'occhiata. Andiamo avanti con il canale della CNBC, che è un'emittente americana, un giornale finanziario americano, che però su YouTube fa tutto meno che notizie. Infatti, altrimenti non la seguirei, ma fa invece dei veri e propri approfondimenti per niente male, a dire il vero. Si va da roba dai 5 minuti, quindi cose veramente estemporanee e magari un pochino più basate sull'attualità, fino a dei video anche abbastanza approfonditi, di un quarto d'ora, 20 minuti, dove si va a spiegare veramente molto nel dettaglio un argomento o una vicenda che è accaduta, però approfondendo. C'è, ad esempio, un video di 8 minuti dove si parla di come mai il prezzo del cioccolato, o meglio, del cacao, è salito così tanto. Ci sono dei video monotematici su un'azienda, come quello su Etsy, che in questo momento è scesa un pochino. Insomma, piccoli approfondimenti che però valgono assolutamente il tempo speso. Andiamo avanti con uno dei due canali che in questo momento sono in assoluto i miei preferiti, perché sono molto simili, tra le varie cose, ed è Company Man. Company Man è un canale che in ogni video parla di un'azienda specifica, può essere Wish, può essere Rockstar, tendenzialmente si parla di aziende americane, ma anche altre aziende di vario tipo. E la cosa bella è il livello di approfondimento che in anche solo 10-12 minuti arriva ad avere. I video sono fatti veramente bene, molto dettagliati, anche considerando il poco tempo che prendono, ma soprattutto non danno una panoramica sull'azienda, perché appunto troppo poco tempo, ma danno magari una panoramica dell'azienda in relazione a una cosa che sta succedendo all'azienda in quel momento. Per esempio, c'è un'azienda che è in declino, ecco che allora la si inquadra un po' nell'ambito di questo declino e si fa un video di una dozzina di minuti sul tema. Questo è uno dei due canali dove quando si parla di analisi singole mi ispiro di più. Cioè, sono veramente video che mi piacerebbe riuscire ad arrivare a fare, ma richiedono molto, molto tempo e in Italia non penso ci sia il mercato per riuscire a far sì che questi video non so, valgano il lavoro. Però dopo arriva l'altro. Poi abbiamo Datapizza. Datapizza è un canale nato relativamente da poco ed è cresciuto chiaramente sull'onda dell'intelligenza artificiale e un po' parla di questo. Quindi intelligenza artificiale, analisi dei dati, sono molto, molto base come approccio, non puntano ad arrivare a livelli di mega, iper approfondimento. È un canale un po' per tutti se non conoscete questi argomenti sono sicuro che trovate del valore e la cosa bella è appunto è il loro modo di spiegare molto terra-terra molto alla mano. Io in particolare li seguo più per gli approfondimenti che fanno sugli aggiornamenti di intelligenza artificiale e ogni tanto mi piace anche vedere magari spiegazioni di cose che già conosco solo perché le spiegano bene. Sì, questa è una mia cosa. Quando trovo qualcuno che spiega bene un argomento anche se lo conosco mi piace. Andiamo avanti con Davide Ravera che è uno dei pochissimi a dire il vero che parlano di finanza in italiano su questa lista perché oh raga cioè sono pochi mi spiace. Comunque Davide è un consulente finanziario e sul suo canale parla di argomenti finanziari molto bene a mio avviso cioè approfondisce veramente il giusto non per questo diventa però noioso quindi assolutamente secondo me merita che gli dati un'occhiata. Iconclips questo è un canale che parla principalmente di economia purtroppo non pubblica da tanto però c'è veramente un attivo di video veramente enorme quindi sono sicuro che anche andando indietro trovate degli argomenti di economia quindi stiamo parlando più di economics che non di finanza veramente vasto e qualcosa che vi interessa lo trovate per esempio parla delle principali cause di povertà di alcuni paesi cioè è molto interessante ci sono veramente dei materiali fatti molto bene anche qui la realizzazione visiva e grafica aumenta veramente il valore percepito di questi video siamo sulla E quindi avete capito i prossimi canali parleranno quasi tutti di economia infatti economia italia di Umberto questo è un canale che non seguo quanto vorrei purtroppo però il tempo è quello che è e in particolare noto che vado spesso a informarmi sul suo canale quando si tratta di elezioni quando c'è aria di elezioni e infatti mi piace molto la lettura che ha dei programmi e della posizione dei partiti per quanto riguarda i temi esclusivamente economici e inoltre mi piace molto il suo approccio molto data based quindi anche in questo caso basato sui dati e non su ideologie che quando si tratta di politica e economia tende a la linea tende a essere veramente sottile e infine economics explained che come suggerisce il nome parla di economia e in particolare mi piacciono un sacco i video dove parla di economie di singoli paesi ci sono infatti video su diversi paesi e ammetto che questo è stato uno dei canali a cui mi sono ispirato per la serie investire in infatti ci sono diverse cose che mi piacevano moltissimo di questa serie e ho deciso di prenderne una parte perché poi come avete visto i video sono decisamente più complessi si fa una panoramica molto più vasta non ci concentriamo solo sull'aspetto economico però devo assolutamente ringraziare un canale del genere e chiaramente citarvelo perché andatelo a vedere financial times anche in questo caso abbiamo un giornale finanziario questa volta un giornale inglese e come per la CNBC prima ci sono dei bellissimi approfondimenti che fanno sul canale e questa volta si arriva anche ad approfondimenti molto molto lunghi c'è uno di quattro giorni fa sui broker cinesi al riciclaggio di 40 minuti che ho iniziato a vedere non ho ancora finito molto interessante in particolare la serie che preferisco sono i financial times film che sono i video un pochino più lunghi un pochino più approfonditi ma anche con una cura maggiore quindi date assolutamente un'occhiata a questa serie Gianluca Ranieri Bandini altro dei pochi youtuber di finanza citati in questa lista mi piace molto il suo approccio è molto posato tranquillo non è uno che sbrodola dicendo roba a caso come spesso invece accade ed è il motivo per cui sono così pochi su questa lista cavoli comunque mi piace molto il suo approccio parla veramente di diversi temi sono video diciamo quasi in presa diretta quindi non vi aspettate quel tipo di cura così meticolosa come altri su questa lista però il contenuto a mio avviso c'è li trovo molto interessanti non guardo tutto chiaramente però in questo caso vi consiglio di dargli un'occhiata Marcello Ascani vabbè qui non penso servano le presentazioni mi farebbe abbastanza strano spiegarvi cosa fa un canale che è tipo il doppio più grande di me in Italia quindi vabbè semplicemente sappiate che lo seguo mi piace oh finalmente arriviamo al mio canale preferito in assoluto giuro credo di averli visti quasi tutti Modern MBA questo canale americano con a mio avviso troppi pochi iscritti e troppe poche visual è veramente incredibile cioè io da quando l'ho scoperto mi sono fatto un rewatch di quasi tutti i video e se non fosse che pubblica veramente poco perché sono video molto lunghi e con tantissima lavorazione penso che non vivrei più in ogni video si va a fare una panoramica di un'azienda o a volte anche di un settore mi viene in mente il video sul settore dei parchi divertimento dove però alla fine si parlava di un'azienda vabbè dettagli e sono video estremamente dettagliati di circa una quarantina di minuti e non sono 40 minuti spesi a parlare e chiacchierare sono 40 minuti belli densi belli concentrati questo canale secondo me è veramente una perla e io ve lo straconsiglio poi restando in tema di amici abbiamo Mr. Rip Paolo Coletti di nuovo non sto a spiegarvi chi siano andando avanti Phil Edwards questo è un canale di divulgazione in ambito tecnologia scienza un po' di tutto e anche in questo caso mi piace il suo approccio molto semplice nello spiegare le cose c'è ad esempio un bellissimo video su Nvidia che vi straconsiglio anche alla luce del fatto che è appena diventata l'azienda più grande al mondo o meglio mentre il registro non so se lo è ancora in effetti però vabbè ci siamo capiti anche in questo caso approccio estremamente casual per nulla formale quindi anche secondo me godibile in un momento dove avete voglia di qualcosa di informativo ma non avete troppa sbatti di mettervi là a vedere un video di 40 minuti pieno di numeri Polimatter canale che amo che ha fatto un sacco di video sulla Cina infatti è probabilmente il motivo vado a memoria per cui ho scoperto questo canale ovvero i tantissimi approfondimenti su Cina e su tematiche cinesi mi viene in mente politica del figlio unico e diversi altri argomenti anche in questo caso lo stile è quello del video saggio quindi video anche abbastanza lunghi da 20-30 minuti in certi casi molto dettagliati molto densi e molto approfonditi con però uno stile abbastanza semplice nello spiegare quindi anche in questo caso se vi interessano temi in particolare relativi all'Asia perché vedo che cade spesso su quella zona di mondo dategli un'occhiata un altro canale che purtroppo fa veramente pochissimi video e mentre il registro non ne fa da sei mesi si chiama Primer Primer è un canale che fa delle simulazioni magari simulazioni statistiche o simulazioni di evoluzione e cerca di renderle nel modo più semplice possibile attraverso questi blob blu super carini e soprattutto funziona perché effettivamente le spiegazioni sono veramente valide ad esempio uno degli argomenti secondo me più infidi da capire per quanto riguarda la statistica le binomiali ecco che trovate un video sul suo canale spiegato in questi blobini blu troppo carini dove effettivamente è molto più facile da capire Real Engineering canale che parla tendenzialmente di mondo aerospaziale mondo che devo ammetterlo non suscita così tanto il mio interesse però non parla solo di questo parla di ingegneria anche un pochino più in generale infatti ad esempio quando ha fatto il video sull'ingegneria del Game Boy io ero tipo bellissimo ne voglio ancora oppure spesso parla di treni ha fatto un video dove spiegava la questione dell'Ocean Gate del sottomarino quello che è imploso malissimo quindi in generale se vi attira il mondo ingegneria dategli un'occhiata poi vabbè anche qui parlando di amici Riccardo Zanetti altro canale stupendo di divulgazione scientifica Smarter Every Day di Destin io penso di aver scoperto questo canale con il video sulle pulegge bellissimo cioè veramente riuscire a rendere un aggeggio come questo che starete vedendo qui interessante cioè ce la fanno in pochi quindi in generale anche in questo caso si fa divulgazione scientifica su tantissimi argomenti molto vari e mai troppo troppo nel dettaglio quindi dategli assolutamente un'occhiata perché vi divertite e imparate qualcosa restando in ambito scienza Steve Mould anche qui trovate sul canale la spiegazione di come funzionano alcuni oggetti la spiegazione di alcuni fenomeni sempre con questo stile molto semplice che l'avete capito ormai è uno dei miei stili preferiti quindi in questo caso super consigliato ritorniamo finalmente sulla finanza con The Plain Bagel che secondo me in tanti conosceranno un canale con quasi un milione di iscritti Richard che gestisce il canale è un analista e anche in questo caso mi piace moltissimo il suo approccio molto misurato e molto moderato nello spiegare alcuni temi soprattutto quelli dove magari c'è più attenzione mediatica sul momento come le varie questioni meme stock game stop dove è molto facile scaldarsi per niente e poi in generale è una persona molto attenta al dettaglio molto attenta al numero che cerca di essere molto precisa quando parla dei vari argomenti finanziari Wall Street Journal come altri giornali sulla lista ha un canale YouTube dove pubblica diversi approfondimenti in questo caso sono forse i più brevi però sono comunque assolutamente validi considerato che in 5 minuti qualcosina ve la raccontano ed è secondo me paragonabile a leggersi un po' un articolo dove magari l'articolo parla di attualità ma non entra troppo troppo nel dettaglio invece in 5 minuti di video c'è più spazio di entrare un pochino più nel dettaglio e di approfondire 2 minute papers oh mamma mia quanto amo questo canale e posso essere fiero del fatto che lo seguivo prima che scoppiasse tutto questo macello per chat GPT e mid-journey e così via infatti appena mi erano capitati i suoi video in home sono letteralmente impazzito nel vedere quanto fosse figa l'intelligenza artificiale che prima lo ammetto non conoscevo così tanto questo è stato uno dei canali che mi ha aperto il mondo soprattutto sull'intelligenza artificiale generativa per cui se non ricordo male avevo scoperto questo canale quando stava per uscire da lì la versione di generazione immagini di open AI e da lì l'ho seguito molto assiduamente e in generale continuo a seguirlo soprattutto per tutti quegli approfondimenti sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale oggi la cosa bella è che va a commentare degli studi ma non li commenta semplicemente leggendo un sacco di paper cose che potrebbe sembrare noiosa ma cerca di metterci quando possibile un sacco di immagini video anche perché se si parla di intelligenza artificiale generativa spesso c'è qualcosa da far vedere veritasium anche qui mi sento veramente un po' strano a spiegarvi chi sia veritasium perché ha 16 milioni di iscritti però divulgazione scientifica vari temi molto approfondito quando serve molto casual quando non serve super divertente ammetto che uno dei motivi per cui seguo veritasium sono le miniature infatti se io fossi bravo anche solo un decimo come lui a fare le miniature penso avrei il triplo degli iscritti però sto cercando di imparare e ultimo della lista per la serie mini documentari mini approfondimenti Wendover Productions questo è un canale che inizialmente parlava per lo più di logistica e poi da lì si è espanso parlando non solamente di logistica a fine a se stessa ma tutto quello che comporta quindi logistica del settore X logistica del settore dei corrieri ecco molto interessante poi da lì si è espanso e parla anche di cose che vanno un po' al di fuori della logistica ad esempio c'è un bel video di un mese fa sul private equity c'è un bel video dove si approfondisce come mai Boeing non è più quella di una volta anche se qui secondo me come sempre c'è molta narrazione però in generale sono video secondo me da cui si può trarre molti spunti e questa era la prima parte quella dei canali un pochino più corposetti quelli da cui magari c'è da imparare qualcosa anche un po' tosti magari da seguire in certi passaggi perché a volte i canali che fanno video da 40 minuti pieni di numeri capisco che insomma non siano proprio all'acqua di rose però spero vivamente che uno ci siano dei canali che non conoscevate che ora andrete a vedere e che tornerete qua soddisfatti a ringraziarmi e due se invece abbiamo dei canali in comune fatemelo sapere qua sotto nei commenti scrivendo appunto quali sono questi canali che voi seguite e che seguo anche io per oggi è tutto ma ci vediamo nella prossima parte dove invece vi racconto un po' qual è la parte più casual di youtube che mi piace frequentare alla prossima